Buon fine settimana cari amici social follower, volevo innanzitutto ringraziarvi per il grande seguito del video dedicato alla nostra grande Jasmine Paulini che oggi diciamo che ha già scritto un capitolo di storia del tennis e dello sport italiano oggi come si dice possiamo dare il tocco finale 2 indipendentemente da come andrà appunto nella partita contro la sua avversaria quest'oggi, gara prevista intorno tra le 15 e le 15.10, mi raccomando tutti i sintonizzati via radio, via tv, ovviamente fatelo per via legale. Musetti ieri si è dato onore, ripeto d'accordo il gioco che c'è forte ma forse dovrebbe fare un po' di mia culpa per diciamo un rapporto abbastanza critico con il pubblico che osannava il nostro grandissimo Lorenzo Musetti ma ciò che conta di più è che comunque il nostro tennis italiano sta continuando a dominare un lungo e un largo da possiamo dire mezz'annata questa parte non quasi un anno quindi forza azzurri del tennis perché l'Italia abbiamo fatto fallimenti, grande Musetti, Paolini questo se non vado rato siamo arrivati al numero 1200 del mio canale ovviamente ringraziamenti per questo mio impegno seppur come hobby passione vanno a tutti voi che mi seguite e niente quindi gustiamoci la Paolini oggi e domenico ovviamente diciamo al gas perché è meglio che non venga il gioco e se no si avvicina ancora di più a Sinner bene ci vediamo nei prossimi appuntamenti Ciao